Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo del nuovo Chorus Apex 2. La versione successiva del Chorus che abbiamo provato qualche mese fa la riprova, una versione normale, non la pro, adesso vediamo pregi e difetti e all'interno della recensione completa. Inizio col dirvi come ho provato questo orologio, praticamente ce l'ho in prova da un mesetto, una roba del genere, l'ho utilizzato quasi tutti i giorni, l'ho proprio portato al limite, scaricato tantissime volte, e sì dai diciamo che è un orologio un po' così, adesso ne vediamo insieme perché. Iniziando dai materiali, i materiali sono l'aspetto che più mi è piaciuto di questo orologio, è un orologio piccolino, soprattutto questo qua, non la versione pro, da 43 mm come cassa, ha un vetro zaffero, la cassa in titanio, vi assicuro che io l'ho praticamente maltrattato tantissime volte, cioè anche sbattuto contro delle rocce, l'ho proprio utilizzato senza farmi tanti problemi, ed è ancora integro, non ha minimamente un graffio, quindi livello materiali super. Mi piace il fatto che sia piccolo perché riusciamo a tenerlo al polso anche la notte, comunque non ci dà fastidio, e vi assicuro che detto da uno che porta un Fenix 7X tutti i giorni, si sente davvero tanto quando un orologio piccolino fatto bene. E soprattutto poi mi piace tanto anche il cinturino, questo cinturino fatto in nylon, che si chiude a strap, bello, davvero bello, perché poi provandolo in questo periodo ho apprezzato particolarmente la chiusura a strap che mi prometteva anche di metterlo esempio sopra una giacca. Quindi, dal punto di vista dei materiali, promosso, davvero molto bene. Iniziamo ad arrivare alle cose che sì ma no. Io inizierei dalle mappe. Io amo tantissimo che ci siano le mappe sugli orologi, perché davvero più le utilizzo, più mi rendo conto di quanto siano indispensabili. In questo caso sono delle mappe però veramente molto 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 semplici. Cioè, non troviamo tante indicazioni, è difficile anche riuscire a orientarsi con le mappe che abbiamo sopra questo orologio, quindi andrebbero curate, curate molto molto di più. E poi io continuo a non sopportare il fatto che la traccia che abbiamo appena percorso sia di colore azzurro. Cioè, non va bene perché... Poi Coros mette azzurri anche i fiumi, quindi davvero non si capisce più niente. Cioè, sembra di aver appena percorso un fiume, quindi... È una cavolata, ma vi assicuro che se dovete orientarvi è abbastanza forviante. Passiamo tutta alla parte di sensoristica. Qua di sensori ne troviamo tantissimi. Dal barometro, all'altimetro, al giroscopio, al GPS, naturalmente anche rilevazione del cardio da polso. E partire proprio dal cardio da polso. Non mi ha convinto tantissimo. O meglio, finché stiamo a correre a ritmo tranquillo, a ritmo costante, funziona anche bene. Non ha tanti problemi. Quando iniziamo a fare magari delle ripetute, o a fare magari anche dei lavori in cui la frequenza cardiaca sale e scende molto velocemente, allora sballa. Sballa davvero tanto. E non c'è nemmeno la connessione ANT Plus per collegarci in una fascia cardio, solo con la Bluetooth. E questo per quanto riguarda la fascia cardio. GPS monobanda. Lavora bene quando siamo in campo aperto. Se iniziamo ad andare sotto gli alberi, vicino ai palazzi, eccetera, anche lui sballa. Anche qua, bene, ma non benissimo. Per quanto riguarda poi invece altimetro, barometro e via dicendo, funziona benissimo. Zecca all'altitudine, davvero al metro, quindi nulla da dire. C'è anche la possibilità di avere l'HRV. Bene, ma non benissimo. Anche qua. Nel senso che la prende, la possiamo leggere, però è una cosa che va fatta manualmente, poi lui non tiene uno storico. Diciamo che, sì, poteva essere fatta meglio, soprattutto anche poi l'integrazione sull'applicazione. E visto che ve l'accennavo, parliamo anche del quarto punto, bene ma non benissimo, ovvero tutta la parte di lettura dei dati. L'applicazione c'è, funziona bene, la conosciamo. L'unica cosa è che secondo me è un po' scarna. Per intenderci, come dicevo, l'HRV non ci dà un indice. Cioè, ci dice il valore finale, bene, basta. Cioè, se lo sappiamo interpretare, bene, altrimenti... Per quanto riguarda il sonno, altro esempio, non ci dà un indice se abbiamo dormito bene, abbiamo dormito male. Ci dice solamente, avete dormito 8 ore in sonno leggero, 8 ore in sonno REM, e basta. In generale, poi, anche tutta l'attività della giornata, sì, ci dice va bene, va male, non lo so. Cioè, dentro l'applicazione mi piaceva un pochino più di sostanza, un pochino più di analisi dei dati. Perché davvero, con un'applicazione fatta così, Coros farebbe un bel salto in avanti. Per quanto riguarda la batteria, questa è come dichiarato dal produttore, nel senso che tiene fino alle 40 ore, 38-40, in modalità solo GPS. Per quanto riguarda, invece, diciamo, un uso più standard, con una ventina di ore di attività alla settimana, diciamo che ci facciamo 5-6 giorni, utilizzandolo un po' come smartwatch, un po' come sportwatch. E vabbè, ci sta, nel senso, ci sta, soprattutto, visto la grandezza e il peso di questo orologio, che, essendo un orologio piccolino, naturalmente la batteria non può essere enorme. Però, comunque, un orologio già che ti fa una quarantina di ore di GPS, è tanta roba. Per quanto riguarda, poi, tutto il lato software dell'orologio, funziona veramente molto bene, non ha impuntamenti, L'orologio, davvero, funziona bene, semplice, intuitivo, grafiche molto semplici, molto personalizzabile, davvero un orologio super personalizzabile. Per intenderci, partiamo dai campi, quando andiamo a leggere l'orologio, io non andrei oltre i 5 campi, perché, veramente, lo schermo, essendo così piccolino, poi, i numeri diventano un po' troppo piccoli. Però, in generale, davvero super personalizzabile, e questo aspetto mi piace davvero tanto. Sempre lato software, come dicevo, abbiamo le mappe che non sono preinstallate, ma vanno scaricate. Abbiamo, inoltre, anche 8 GB di memoria interna, sfruttabile, però fatti conto che se ci scarichiamo le mappe, le 8 GB vanno, naturalmente, a diminuire. Arriviamo, infine, al prezzo. 480 euro si trova online. Ne vale la pena? Ni, diciamo ni. Sarei curioso di provare la versione Pro, e vedere se spendono 100 euro in più, magari abbia più senso. Secondo me, questo orologino qua va bene per una persona che fa attività, ma a livello molto blando, molto amatoriale, cioè, che non gli importa tanto dei dati, sì, magari gli importa tenere conto, giusto, di qualche indicazione, e vedere quanto va il chilometro, vedere quante chilocalorie ha bruciato, ma, diciamo, non uno che vuole proprio arrivare a succo dei dati per poter anche programmare, fare un certo tipo di allenamento. Per il resto, sì, cioè, diciamo che, secondo me, è un orologio che è uscito acerbo. Io ho notato, provando anche diversi Coros in passato, che Coros fa uscire gli orologi un po' acerbi, quindi, dal punto di vista hardware, con tutte le funzionalità, però dal punto di vista software, un po' indietro. Io non mi stupirei se, magari, riprovando questo orologio, tra sei mesi o un anno, Coros avrà implementato tutte quelle cosine che adesso mancano, che quindi si potrebbero giustificare anche questi 480 euro. Io, sinceramente, ad oggi, pur che soggi hanno questa recensione, non vi consiglio di comprarlo, perché, secondo me, il prezzo è molto alto rispetto a quello che offre. Vedremo, magari, di riprovarlo tra sei mesi, un anno, magari verso l'autunno, e vedere cosa sarà cambiato. Magari a quel punto ribalterò completamente le mie indicazioni. Ma detto ciò, ragazzi, io, da Spianza del Sessato, e sovrinti risostivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!